Ha preso il via mercoledì 21 aprile il corso di formazione online in educazione finanziaria per operatori e operatrici del sociale. Organizzato dalla Fondazione Don Mario Perti con il contributo del Consiglio regionale del Piemonte e dell'Osservatorio regionale sul fenomeno dell'usura, il corso si articola in tre giornate di lezione suddivise in due sezioni dedicate ad altrettanti aspetti dell'educazione finanziaria. Sei moduli dal bilancio familiare all'alfabetizzazione finanziaria, dal potenziale del risparmio alla prevenzione dell'usura, per fare dell'educazione finanziaria uno strumento di inclusione socio-economica alla portata di tutti. Il corso intende dare agli operatori strumenti e conoscenze per incidere in maniera positiva su un tessuto sociale già in difficoltà e che oggi, anche a causa della pandemia, ha visto aumentare sofferenze e disagio. A inaugurare il ciclo di lezioni i moduli programmati per Torino, in apertura dei lavori, gli interventi dei consiglieri segretari dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, Giorgio Bertola e Gianluca Gavazza. L'educazione finanziaria è diventata ancora più importante adesso, perché tutto ciò che è connesso alla pandemia ha portato a maggiori problemi per le famiglie, per le imprese, a una maggiore vulnerabilità dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista sociale, dal punto di vista psicologico. Ritengo che sia importante per noi non fermarci e andare avanti non solo dando segnali, ma portando avanti iniziative concrete come queste. Mi associo ai ringraziamenti del collega Bertola per la realizzazione di questo importante percorso formativo ed in particolare nell'aiutare le persone che si trovano in grave difficoltà oggi, che sono molte, poi ho sentito che vengono incluse anche le imprese. Ecco, su questa materia che a me appassiona molto da sempre, avendo avuto questi furfanti seduti vicino per molti anni, come tutti noi che svolgiamo un lavoro imprenditoriale e oggi non solo. Coinvolte nel corso tutte le province piemontesi, con cicli di incontri, lezioni ed esercitazioni sempre di tre giorni e a cadenza quindicinale che si chiuderanno a fine giugno.